amici e amiche di qui studio a voi stadio ben ritrovati a questo appuntamento il fatto del giorno il fatto del giorno del milan purtroppo è un fatto che si ripete da tempo i numerosi gli eccessivi infortuni che subisce il milan che subiscono i giocatori del milan devo dire che questo è un problema non nuovo quando c'era gattuso mi ricordo che spesso giocavamo senza cinque sei giocatori la cosa poi si è ripetuta ma da un anno è come se ci fosse una specie di epidemia un'epidemia che costringe pioli a reinventarsi ogni giorno la squadra io credo che nell'ultimo anno una volta soltanto abbiamo giocato con la nostra formazione tipo una volta soltanto ma possono esserci tanti motivi possono essere è vero che il milan gioca a un livello atletico e di corsa cerca di giocare superiore agli altri quindi potrà sì che ci sia più propensione verso gli infortuni però secondo me non è solo sfortuna andiamo ad analizzare un po le situazioni vedremo che non è solo sfortuna lasciamo per ultimo il caso di magnan è un caso veramente completamente a sé stante ma ibra ibra sempre assente non ci voleva una persona con la sfera di cristallo per immaginare che ibra pur pagato 7 milioni magari con bon compresi bonus 7 milioni l'anno quest'anno avrebbe giocato molto poco perché lui a 40 anni ha fatto mille battaglie ha avuto un gravissimo incidente ci ha messo due anni per riprendersi l'anno scorso è stato a mezzo servizio poi va anche in giro a fare va a sanremo a fare le sue comparsate va in giro in nazionale quando non deve e comunque c'ha 40 anni le sue infiammazioni tendine d'achille polpaccio sono normali sono normale quanti anni non è su per me quindi non è sfortuna non parliamo di sfortuna magnan magnan non girou girou 35 anni era in grande forma obiettivamente però ha avuto il covi e rispetto ai più giovani ci mette di più a recuperare poi ha avuto la lombalgia quando ha recuperato perché perché ci mette di più degli altri a tornare in forma ha preso una botta alla schiena non mi risulta comunque è anche lui un lungo recupero adesso forse recuperato per un tempo non di più florenzi bello de nonna florenzi io me l'immagino a casa con la copertina sulle ginocchia con la nonna che dice la nonna mi porti una tisana cioè florenzi bravo ragazzo forse era anche un bel giocatore forse può ancora dare qualche cosa ma ha avuto due due infortuni due operazioni e legamenti del ginocchio due è sempre infortunato è spesso infortunato agli europei era infortunato si è infortunato subito quando è arrivato al milan poi si è infortunato non è non è un caso messias giocatore che a me piace tanto e proprio voglia di vederlo messia la messia sa 30 anni messia sa 30 anni ha cominciato a giocare a 25 anni e non in squadroni cioè era abituato in un altro modo quando era nei dilettanti altro tipo di allenamenti quando era nei semi professionisti altro tipo di allenamenti al crotone forse ha cominciato qualche cosa appena arrivato al milan è arrivato al milan ha fatto questi già non sarà arrivato al cento per cento ha fatto degli info degli allenamenti credo più pesanti di quella qui normalmente abituato se già rotto due volte starà fuori un altro mese non abbiamo mai visto finora mai non è un caso non è un caso se prendi un ragazzo di 20 anni 22 23 anni bello solido non succede ripeto messias mi piace speriamo che recuperi però troppe situazioni a rischio troppe scommesse quindi poi si paga questi queste cose si pagano è così chi è chi è un giocatore eccezionale una persona stupenda lo vorrei capitano chi è ma sappiamo tutti che se gioca tre partite consecutive alla quarta si infortuna perché chi è fatto così ha più di 30 anni anche lui molte battaglie sulle spalle e quindi è così non sarà un caso dovesse giocare spesso per fortuna c'è romagnoli che è in buona forma può fare un po di rotazione comunque dovesse giocare spesso si infortuna baccaio co è grosso è arrivato non era posto non era in condizioni lo sapevano tutti più o in conferenza dice non è in grado di giocare poi per un motivo per l'altro lo mette in campo 20 minuti e si infortuna fuori un altro mese baccaio co e forse forse anche più perché lui anche lui pesante ci mette tanto chi altri perso il conto non so neanche più quanti siano questi calabria calabria si è infortunato però nazionale forse così ma niente di che però calabria non c'è nulla a dire calabria è un giovane e vai se si infortuna come ogni tanto ci sta ma non fa parte delle casistiche che sono prevedibili ecco e vediamo poi a magnan magnan si infortuna contro il liverpool si infortuna contro il liverpool nell'intervallo della partita vediamo che forse gioca tatarusano mamma mia tutti con le mani nei capelli gioca tatarusano poi invece ce la fa rientra rientra però poi tutti sapevano che avesse ancora dolore tutti ogni giorno lo vedevano che aveva dolore gli fanno una lastra e dice non c'è niente non c'è niente a posto ma lastra come quando qua vado anche io ho fatto mi sono fatto mal posto sono atto qui a san carlo mi hanno detto tutto a posto a casa ma io non sono un giocatore professionista lui continua a avere male insomma dopo va in nazionale dopo un mese dicono questo dolore dopo un mese non ci piace e fanno un'analisi poi fanno l'artroscopia vedono che c'è una scarsa vascularizzazione cioè circola male il sangue per tanti motivi e loro gli mettono una vite un osteosintesi nell'osso nello scafoide cosa centri poi l'osteosintesi nell'osso con la vascularizzazione però magari sono le modernissime le modernissime tecnologie non lo voglio sapere non lo so so che lui si è fatto male e ci hanno messo un mese per capire che si è fatto male questo non è non è accettabile adesso dovremmo abbiamo chiamato un altro portiere mirante 38 anni anche lì si vocifera di un problema al polpaccio che ha da tempo speriamo di no già è vecchio 8 38 anni e quindi se la giocherà lui e tatarusanu ripeto solo pensare che giocheremo la prossima partita con tatarusanu e ballo touret c'è c'è da prendersi c'è da prendersi paura è un peccato perché il milan non dimentichiamoci purtroppo tutti questi eventi ci fanno dimenticare le situazioni poi reali quelle del campo noi veniamo da una bellissima vittoria a bergamo contro l'atalanta che abbiamo dominato ecco il milan sta giocando bene il milan è una bella squadra il milan dei bei giocatori certo che certo che se tutti questi giocatori tutti questi giocatori poi si infortunano chi prima chi dopo chi per un motivo che per l'altro non possiamo andare avanti io guardo gli altri cioè io spero che non amo l'inter l'inter è un anno e mezzo che giocano senza avere infortuni a parte sensi che è un lungo degente da sempre si infortunano ogni tanto uno due ma non ho mai cinque sei sette giocatori adesso c'è l'atalanta che di mezzo sì anche l'atalanta adesso ce l'hanno scorso no quest'anno sì si parla che hanno hanno cambiato un po modo di di allenarsi forse allenamenti un po meno intensi e quindi poi in campo si infortuna non lo so fatto stare che il milan è troppo tempo che convivono questo problema è il momento di vederci bene dentro io non so se milan utilizza ancora milan lab alcune voci mi dicono che non utilizzano più milan lab perché costa troppo non lo so la verità non la so mi piacerebbe saperlo non so neanche se milan lab è il top sinceramente ma io vedo io da tifoso vedo vedo che mancano la pelle un sacco di giocatori che piove deve fare i miracoli così non va bene se volete continuare così senza fare le analisi sulla preparazione atletica sui medici su chi recupera va bene continuate ma almeno prendete altri due o tre giocatori così il turnover è maggiormente garantito un saluto a tutti ci vediamo dopo la partita col verona